ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video pulizie stavolta pulizie da ogni stanza non sono in camera ma sono in sala per esempio della location però c'è buoni qui dello stesso altrettanto adesso ovvero tra poco mi vedrete in camera a pulire la mia camera e a spostare tutto quindi ci vediamo un altro momento per a fine pulizia se lo so non è valido fare tutte pulizie se poi non ciò che faccio al massimo vi dico come lo sistemato ok a dopo ciao niente allora ho fatto il letto qua eccoci qua ok e desidero togliere tutte le scatole qua qui sotto ho detto tutte le scatole da lì sotto e niente prima però devo sbattere i tappeti però questi tappeti e niente adesso mi lavo i piatti della colazione se no li lavo dopo pranzo altrimenti è nulla adesso mi trovate in vesto diversa per non investire con i capelli diversi perché li ho un po' accroccati tirati su perché altrimenti c'era una via di caldo e niente adesso mi ha lavato appena la camera me l'ho spazzata ho tolto tutta la scatola sotto il letto per ripulire un po' una pulizia più profonda e adesso perché no cerco di distragli un po' guardatele e niente qua c'è uno mosche che mi viene non ha lavato dettagli è fastidio queste mosche ma oggi c'erano tutti come queste mosche vabbè niente adesso io mi guardo un po' di tene intanto abbassa un po' perché è troppo alto oddio cosa ho fatto qua ok va bene ho sbagliato il canale come solito allora siccome c'è la televisione a palla l'ho abbassata un po' perché sennò così non si fa vita oddio che sudore che ho fatto pulendo e tutto quanto e non è finita qui ragazze devo ancora cercare di come dire di spolverare tutto quanto perché non ho spolverato ho spolvero dopo aver lavato anzi ho spazzato adesso ho lavato dopodiché devo spolverare perché come si suol dire sono come quelli uomini della tempo della telemobile sì cerco di fare col che possa però a me scuola mi piace quindi cerca di spolverare con i panetti in microfibra che faccio vedere quali sono sono questi ragazzi vedete sono questi qua questi sono quelli dell'euro spin panni in microfibra tra poco lo uso e niente mi metto a spolverare così spolverò per benino e così ho fatto tutto oddio quanto sto cuocerando sempre che sono sudata vero no come no certo che si è ovvio che sono bella sudatina e niente qua fa un bel tempo direi se mi avvicino sia un bel tempo allora le scatole sono da questa parte vedere le scatole delle mie scarpe stivali eccetera niente quindi che dire sembra freschetto qualcosa devo liberare di queste scatole perché tanto non le uso tutte per togliere dalle scatole e cioè questa qua dove ho comprato a tanto tempo fa il cavalletto questo qua ma oramai non lo uso tanto non parto non faccio nulla di che non faccio chissà che viaggi che cose che tipo di viaggi che non sono un canale di viaggi ma un canale beauty a casa quindi questo qua non mi serve non mi devo traslocare né niente e quindi preferisco che lo butto almeno che qualche volta non dovuto al suo cibo quattro a casa credo di no quindi al momento lo butto casomai ne ricomprerò un altro ma non credo bene ragazze o lo tengo o lo butto e se lo deciderò poi nulla intanto qua mi sto un po' allenando ovvero mi sto comunque allora mi sto riposando un pochettino su trastolando guardare la televisione qui nel frattempo ci sono i miei tappetini i miei tappeti tappetini non si dice tappetini ma tappeti che l'ora non mangiamo allora tappeti che vabbè sono quelli vicini al letto mio uno in mezzo di lato e l'altro a fianco questa è la mia valigia perché c'è la mia valigia perché comunque le da pulire era tutto quanto e tutte quelle scatole compreso questo computer qua ed è vecchiotto come il cucco e non so se ripararlo o cosa ma ho troppi computer quindi questo credo che lotterò tanto per avere un ricordo del computer che ho avuto anzi nonna stava pensando addirittura di poterlo aggiustare ma io evitare di spendere soldi per niente perché magari manca poi si può aggiustare sì è ok che il tecnico è bravo a aggiustare i computer e telefoni eccetera ma io sinceramente preferisco farne almeno ho già tanti computer uno fisso e uno mobile anzi due mobili due portatili e a parte questo che ormai è bello andato non c'è più nulla da fare e niente è l'altro che quello nero che avete visto migliaia di volte nei video e poi uno che è del mqv air 13 da 13 pollici e non questo è tutte le scatole che ho poste e la scatola della della come si chiama dell'arte della tv a cari vedete avrei scritto a cari in questa parte a cari vedete qua usate il cane che abbaia ma trovo niente poco ci sono scattoli dei miei stivali dei stivali invernali e niente quindi per dirvi ragazzi mia io adesso vi saluto se così passate anche negli altri video e guardarli sempre si va a piacere iscrivetevi attivate la campanella ciao ragazzi buona giornata a tutti ciao 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 ciao